Il prossimo oratore, il prossimo oratore, il signor Perillo. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio ed il raggiungimento degli obiettivi indicati nel pacchetto clima imbongono la definizione di norme per regolare le emissioni di CO2 in diversi settori, compreso quello automobilistico. Sono molto soddisfatto del negoziato che ha portato all'accordo con il Consiglio del limite di emissione a 147 grammi di CO2 per chilometro entro il 2020. Si tratta di un limite realizzabile ed è anche un ottimo equilibrio tra norme ambientali, sociali ed industriali. Spero di aver dato anch'io il mio contributo come relatore ombre in ITRE. L'accordo raggiunto tiene conto non solo della crisi economica che sta attraversando il settore, ma tiene anche ragionevolmente in considerazione la differenza tra il settore dell'auto e quello dei veicoli commerciali leggeri. Così come è avvenuto con il regolamento CARSE, anche per i veicoli commerciali leggeri l'industria automobilistica europea saprà sviluppare una tecnologia verde, competitiva e con effetti positivi sull'ambiente. E mi auguro che sappia cogliere la sfida ambientale per investire ancora di più in innovazione e ricerca. Grazie. Mister Davis is next. Sentiamo l'onorevole Davis. Avremmo forse potuto ottenere qualcosa di più se questa misura fosse stata introdotta anche per migliorare la resa energetica e non soltanto per la riduzione del CO2. In effetti raggiungiamo stesso obiettivo. In un caso è un risparmio, in un altro caso è... In un caso è un risparmio, in un caso è un risparmio, in un caso è un risparmio